La Fidelissandria E' stata una beffa atroce quella di Cosenza, prendere il gol a un minuto dalla fine fa molto più male che prendere la cinque minuti dalla fine come è successo contro la Casertana perché comunque i ragazzi si erano espressi in maniera giusta, avevamo preparato la partita nel migliore dei modi e il campo aveva detto questo nonostante magari abbiamo dato anche la possibilità al Cosenza di poterci impensierire. L'Andria ha subito il gol del pareggio per ben due volte negli ultimi minuti, secondo lei cos'è un calo fisico, psicologico, errore e tattico? Può essere un mix di tutto questo, certo è che bisogna avere la massima concentrazione fino al 95esimo, fino a quando l'arbitro non finisce la fine della partita bisogna rispettare le consegne, i compiti sui vari calci piazzati e sulle palle da fermo. Ecco, sarei stato molto più contento, tra virgolette, contento di aver subito il gol su un'azione, la parte ben costruita, la parte del Cosenza che non come l'ho preso all'ultimo minuto. Mister, si va a Catania contro una squadra comunque molto forte che naturalmente aspica di vincere questo campionato, che gara deve fare l'Andria per uscire in denne dal Massimino? Sì, sappiamo che andiamo a giocare contro una signora squadra, però andiamo con grande entusiasmo, abbiamo lavorato bene questa settimana, abbiamo anche magari visto qualche situazione da parte del Cosenza, ci abbiamo lavorato su e ora non ci aspetta altro che magari entrare con la giusta convinzione, la giusta cattiveria perché alla fine il giudice supremo è sempre il campo e se ritreremo in una condizione mentale di poter fare bene e siamo nelle condizioni di poterlo fare, nonostante magari abbiamo qualche infortunato di troppo che spero di recuperare fino all'ultimo, noi cercheremo di riuscire a portare a casa un giustrato positivo. Appunto, mister, ci sono un bel po' di infortunati e se ci saranno novità di formazione per queste due gare ravvicinate sia a Catania che a Siracusa? Sicuramente, chi non sarà protagonista sabato prossimo a Catania magari a Siracusa avrà la possibilità di dimostrare il suo valore. Ecco, quello che ho chiesto ai ragazzi è di non mollare mai, di stare sempre sul pezzo, stare concentrati perché quando capita poi l'occasione di potersi mettere in mostra devono dimostrare che magari quando li tengo fuori sbaglio e mi dovranno dare da pensare.